Ciao a tutti ragazzi io sono Suri e benvenuti in questo nuovo episodio di come fatto minecraft Oggi come avete visto dal titolo andremo a vedere come risparmiare il bone meal E lo vedremo con i vari utilizzi sui sapling Cioè come faremo le prove? Faremo delle prove con il bone meal che abbiamo in mano Con tante modalità di click Infatti faremo la prova con il click continuo Cioè tenendo premuto sempre il tasto destro Poi andremo a passare a varie velocità di click al secondo Ad esempio qua faremo 4 click al secondo cioè 1 ogni 250 millisecondi Poi andremo a farne 1 ogni mezzo secondo Così via faremo tante prove per vedere in quale modo si risparmia bone meal e l'albero cresce più in fretta Parto col dirvi alcune informazioni riguardo ai sapling che loro in realtà hanno 3 stadi di crescita I primi 2 tra di loro sono uguali infatti entrambi sono così cioè il sapling si vede Il terzo stadio è l'albero già cresciuto E questa cosa la si può vedere premendo F3 Se andiamo su F3 inquadriamo il sapling vedete che qua c'è lo stage 0 Dopo di questo ci sarà lo stage 1 e poi lo stage 2 che è l'albero cresciuto E tutti questi sapling sono allo stage 0 e non cresceranno perché la random tick speed l'ho messa a 0 Quindi non c'è possibilità di crescita per questi sapling in modo automatico Dovremmo farlo noi con il bone meal E il bone meal cosa va a fare? Cliccando con il bone meal sul sapling abbiamo un 45% di possibilità di mandarlo al stadio successivo Quindi se è lo stadio 0 e noi ci clicchiamo col bone meal ci sarà un 45% appunto che va dallo stadio 1 E dallo stadio 1 se ci clicchiamo ancora con il bone meal abbiamo un altro 45% che va dallo stadio 2 Cioè l'ultimo stadio di albero completamente cresciuto Quindi dopo avervi detto queste informazioni vi spiego come andrò ad eseguire il test Qua abbiamo 10 sapling 5 di qua e 5 di qua E li proveremo utilizzando 10 stack di bone meal Nel senso il primo stack per il primo, il secondo per il secondo e così via Vedremo quanto bone meal abbiamo avanzato per ogni sapling, per ogni tipo di clic, ogni modalità Li andremo a confrontare tra di loro in una tabella Excel per vedere quale è più vantaggioso in termini di risparmio di bone meal Cioè quale metodo ci permette di utilizzare meno bone meal ma avere comunque la crescita completa dell'albero Per fare questi tempi qua di clic di 250 millisecondi o di 500 millisecondi o di 1 secondo Poi ci sarà il 2 secondi ed infine il 1 clic ogni 5 secondi quindi 0,2 clic al secondo Utilizzerò un programma chiamato auto clicker Quindi impostando il millisecondi in quel programma lui farà il clic continuo ogni quella soglia di tempo A parte per il primo che terrò premuto io il tasso destro Quindi adesso mi metto in survival così il bone meal viene utilizzato e non è come in creative che non si usa Quindi game mode 0 e abbiamo 10 stack di bone meal che andremo a utilizzare adesso Gli metto anche questo qua così ne abbiamo 9 e il decimo utilizzeremo questo Devi partire subito il primo e vedere quanto bone meal utilizziamo Tengo premuto il tasto, ne abbiamo utilizzato 4 Ok passo al prossimo tenendo sempre premuto Ok qua ne abbiamo usati 5 Così via faccio le prove per tutti Ecco qua ne abbiamo utilizzati anche un po' di più Ne abbiamo usati 7 addirittura Quindi faccio questa prova per tutti questi e vediamo i risultati per il clic continuo Ok il primo test è finito e questi qua sono i risultati Dai 64 che avevamo prima questi qua sono i bone meal che sono rimasti Metto questi dati qua in una tabella Excel e faccio le prove anche con le prossime modalità di clic Ok tutti i dati della prima prova sono stati messi sulla tabella Adesso passiamo alla seconda prova che prevede un clic ogni 250 millisecondi Quindi 4 clic al secondo Faccio partire l'autoclicker quindi premendo F8 dovrebbe partire in automatico Ok è partito Punto l'albero e clicca in automatico Quindi passo al secondo stack di bone meal Clicchiamo anche qua in modo automatico Lasciamo fare al computer E facciamo anche la prova per tutti questi Qua ne sto utilizzando un bel po' di più Stranamente va bene Passiamo avanti e facciamo le prove anche per questo qua Passiamo alla prova 2 clic al secondo Ed iniziamo con 500 millisecondi ogni clic Partiamo con il primo Ok fatto Secondo bone meal Perfetto Facciamo anche tutti questi e passiamo alla prossima prova Prova di un clic al secondo Proviamo subito anche questo Ok Bene è molto lento Cresciuto Facciamo anche tutti questi Quinta prova con un clic ogni 2 secondi Quindi 0,5 clic al secondo E proviamo anche questo Molto molto lentamente Ultima prova Un clic ogni 5 secondi E sarà molto molto lunga questa prova Quindi ecco il prossimo clic Vediamo un po' Eccolo qua Bene Finisco anche questa prova Ok ragazzi Eccomi con tutte le prove eseguite Ed ecco davanti a voi la tabella Contenente tutti i dati relativi a questa prova qua Che abbiamo fatto In alto potete vedere il tempo del clic Cioè il clic continuo 250 millisecondi 500 1000 2000 5000 A sinistra vedete il numero dall'albero E sotto vedete il totale di bon meal utilizzato Per i vari tipi di clic E la media di bon meal per ogni albero Come possiamo vedere Il minor numero di bon meal Abbiamo utilizzato durante i 500 millisecondi Per ogni clic E ne abbiamo usati 37 di bon meal Quindi un 3,7 di bon meal Per ogni albero in media Anche per i 2 secondi Cioè i 2000 millisecondi Non ne abbiamo usati tanti di più Rispetto ai 500 millisecondi Solamente 3 in più Infatti 40 bon meal in totale E 4 bon meal ad albero in media Da questa prova risulta che Forse con i 500 millisecondi Tra ogni clic Si risparmia un po' di bon meal Rispetto al clic continuo O al clic diciamo molto veloce Che sarebbe 250 millisecondi Naturalmente questa prova È stata fatta su 10 alberi Facendola magari su 100 alberi O molti più alberi Si può arrivare a un valore Anche migliore Ma già con questa prova Forse si è trovato un valore Possiamo così dire ottimale Anche se la probabilità di 45% Di far passare Nello stadio successivo dell'albero Quindi del sapling Abbiamo visto che comunque C'è un risparmio Facendo 2 clic al secondo Questa prova l'ho voluta fare Perché volevo anche sapere Qualcosa di più riguardo A come funziona il bon meal Sui sapling Sia perché nella sua Reefcraft Quando aggiungo nuovi membri Nell'isola degli iscritti Utilizzo tanto bon meal Su tanti sapling E quando lo utilizzo Di solito facevo le prove Lì tenendo premuto Il clic O facendo queste prove qua E oggi l'ho voluto rifare In un come fatto Minecraft Per avere dei dati definitivi E quindi questo come fatto Minecraft può finire qui Come sempre se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate consigliando Nuovi progetti da fare In questa serie qua Io come sempre sono su Reef Ciao a tutti